Eccoci qua, pronti per la nostra campagna della terza guerra mondiale, abbiamo l'America con la Joint Strike Force, evoluzione del corpo dei Marines, è nota per l'integrazione di capacità offensive aeree e terrestri, incarnando il detto alta velocità e bassa resistenza, premeggia per precisione di tiro e rapidità di schieramento, inoltre non è seconda a nessuno per tecnologie stealth e robotica da battaglia. Gli Enforzer Corps sono composti da soldati provenienti da ogni parte d'Europa, calmi e precisi, questi consumati professionisti sono particolarmente abili negli scontri in ambito urbano. Immaggiano nella guerra elettronica, impiegano armi a energia diretta e dispongono dei mezzi più veloci. Temprati sul campo di battaglia, gli Spetsnaz costituiscono una forza determinata e letale e tendono a privilegiare armi e carri pesanti, gli Spetsnaz adattano ingegnosamente la dotazione standard alle proprie esigenze. Le conseguenze, i loro veicoli presentano un consiglio di argomenti aggiunti. Legata guardia Spetsnaz, ok, quindi facciamo Europa. Guerra. Ad appena 20 minuti dalla dichiarazione di guerra alla nazione da parte degli Stati Uniti, anche la Russia ha dato il via alle ostilità. Le sue armate hanno superato il confine polacco attaccando nei pressi di Varsavia, dove i battaglioni d'elite degli Enforzer Corps si stanno preparando a una determinata difesa. La Russia si è unita all'America per porre immediatamente fine all'aggressione europea. Le nostre valorose forze hanno varcato il confine per liberare la Polonia dal gioco europeo. Allora, territorio ricostante, Romani e Emi occupa la Russia da turno. La Russia può essere attaccata dall'America solo da una direzione. che è Pascagoula. Il territorio ricostante Maxwell è occupato d'Europa, penso di tanto Maxwell. Il suo spaziale. Eh, noi abbiamo... Beh no, oddio, la Russia in teoria potrebbe anche essere presa da qua. Fortelevsky. Ah, Italia. Il sud Italia, peccato. Che sagne. Quindi vabbè. Molto generica i nomi. E ci sono tante direttive. Dovrei a prendere prima del soio. Colonnello Maldini. Gli Stati Uniti hanno dichiarato guerra alla Federazione Europea. La Russia ha fatto subito altrettanto. e meno di mezz'ora fa ha invaso la Bologna. Dobbiamo colpire. Dobbiamo colpire. E subito. Esamini le operazioni pianificate contro le due potenze nemiche e indichi quale missione si adatta meglio alle caratteristiche del suo battaglio. Colonnello Maldini. Gli Stati Uniti hanno dichiarato guerra alla Federazione Europea. La Russia ha fatto subito altrettanto. E meno di mezz'ora fa. Ok, attacco, attacco. Qui abbiamo il supporto aereo. Mentre qui... No, certo qui è... Ho messo... Proviamo ad attaccare prima questo. Tu non bagni. Colonnello, l'obiettivo del nostro primo attacco contro la Russia è il complesso in costruzione con i prototipi di reattore a Est di Minsk. Se i russi riescono a terminarlo e a metterlo in funzione, avranno a disposizione una fonte di energia pressoché illimitata. Non possiamo permetterlo. Il suo battaglione verrà avio trasportato in zona. Distruggete le strutture contrassegnate sulla mappa e la Russia subirà un drastico ridimensionamento. Per l'Europa, colonnello, non fallisca. Ah sì, posso cambiare le unità? No. Quindi abbiamo un comando mobile, scherimento di UAB, un'unità sentita, accesso al CREP, dei genieri, dei trasporti e dei carri. Iniziamo. Bene. Allora, iniziamo subito. Andando subito. Il colonnello Maldini è connesso. Flusso dati sicuro. L'operazione Rubicone è al via. Ripeto, Rubicone è al via. Passiamo. Tiriamo dei fucilieri. Abbiamo un tempo limitato per compiere la missione, colonnello. Ride. Nelle missioni di ride all'attaccata distruggere la maggioranza delle strutture cruciali dentro il tempo limite. Il compito del difensore è di difendere queste due. attenzione al quadrante sud. Nemici avvistati. Truppe dell'esercito russo in vista. L'unità 1 è un comando mobile Carlo Magno che consente l'impiego di proiezioni CREP. Ecco. Il CREP fornisce una proiezione in tempo reale dell'intera zona delle operazioni. È possibile dare ordini alle unità da questa interfaccia proprio come sul campo di battaglia. Qui unità Cartesio. Tutti sistemi operativi. Sì, siamo fermi. Qui Falcione. Tutte le squadre in piena forma. Non basterà nulla di meno. Qui Brahms. Commando schierati. Qui unità Etna. Tutti i mezzi in buono stato. Ok, ci sono delle difese, vedo. Qui Thor. Tutte le squadre in piena. Quadrante centrale. Nemici in movimento. Elicotteri d'assalto KA-65 rapace in vista. Non c'è dubbio. Unità. 5. Conquistare. Delta. Confermato. Prendere la stazione radio. Confermato. E annientiamo. Qui unità Etna. Tutti i mezzi in buono stato. Siamo in marcia, comando. Qui unità Danubio. Tutti i mezzi in buono stato. Uno scherzo, comando. Attenzione all'unità 4. Non hanno speranza. Adesso. Sì. 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 Vi travolgiamo. Sì. Facciamo un'immagine Confermato, sono nostri Uccisione confermata Supporti strategici Sono visionizzati nella parte superiore a sinistra dello schermo Selezione del ruolo di supporto E' possibile impartire lo stesso ordine a più unità nello stesso momento E' un muto control Selezione più unità sul pannello Ah, unità, 7 più unità F1, F6 per salvare unità, 7 più meccano Ah, ok Unità, Thor Siamo sotto giro e senza riparo Squadrante Sud Nemico eliminato Guidano piano Sarà un lavoro a regola d'arte, comando Rinforzi caricati e a disposizione Aia Vida dei trasporti Sarà fatto Ah, posso schierare delle unità Un'elicottero adesso Qui, Thor Tutte le squadre integre 3 Confermato Distanza ravvicinata Qui, Falcione Tutte le squadre in piena forma Confermato Prendere la stazione radio Arrivato I Fanti negli edifici hanno una portata maggiore Se il numero della portata all'interno del mirino è verde L'unità non dovrà spostarsi per attaccare Confermato Sono nostri Qui, Unisa, Falcione Qui, Thor Qui, Unisa, Falcione Ok, siamo arrivati Sapete come funziona Stiamo conquistando la stazione radio Cellulizza Quindi si, direi Attacchiamo qui Qui, Unisa, Falcione Qui, Danubbio Tutti i messi in buono serro Attenzione a Whiskey Obiettivo distrutto Comando e controllo eccellente Però presto PTO sarebbe S adesso Quindi Attenzione a Delta L'abbiamo conquistata In marcia, comando Buon cammino I carri Pantera possono eliminare facilmente i veicoli da combattimento di fanteria Quadrante centrale Nemici in movimento Trasporti BTR 112 in vista Sì, ci disimpegniamo Sì, comando Ci sgacciamo Fai un condensamento qui Eh, unità Unità Cinque Sleggiare Delta Porto aereo Elicottero Elicottero Affermativo Dritti come un fuso Qui Etna Tutti i mezzi in buono stato Sì Sì Li sistemiamo noi Sporti Compreso e confermato Qui unità Cartesio Pronti in posizione Qui unità Danubio Sì, ci spostiamo Qui unità Citrino Pronti in posizione Qui unità Etna Quadrante centrale Nemici avvistati Truppe dell'esercito russo in vista Confermato Ci muoviamo Questa uscendo Qui unità Thor Attacco Confermato Arretriamo Tra questi Sarà fatto Qui Citrino Confermato Sono nostri Sì Ci metteremo un attimo Qui Etna Qui unità Thor Qui Citrino Qui Thor Siamo sotto Siamo sotto Tiro e senza Riparo Qui unità Citrino Stiamo attaccando Questi Qui unità Thor Tutte le squadre Integre Qui unità Thor Qui unità Thor Qui unità Citrino Qui unità Citrino Abbiamo conquistato Abbiamo conquistato Abbiamo conquistato Abbiamo conquistato Qui unità Thor Ok Qui unità Thor Qui unità Thor I nemici hanno perso due squadre Ok. Sì, lo riduciamo in magia. Oh, perfetto. Qui, comando aereo Europa. Posso attaccare L? Il segnale autenticato è sicuro. Andiamo. Attacco aereo. IMA. A bersaglio. Sì, me l'ho preso. Sì, me l'ho preso. Sì, me l'ho preso. Sì, me l'ho preso. Confermati, ci sbostiamo. Compreso e confermato. Attenzione a Sierra. Struttura bersaglio distrutta. La missione procede per il meglio. Sì, ci spostiamo qua. Accionato. Sì, intesi. Sì, comando. Confermato. Confermato. Attacchiamo. Sì, ci spostiamo. Ok. Eh, qualche perdita. Quintor. Controllo il timer di missione, colonnello. Il tempo è limitato. Qui in cartesi. Pronti in posizione. Quintor. Ci hanno. Sì, siamo in marcia. Qui unità Citrino. Confermato. Attacchiamo. Attacchiamo questo. Confermato. Quindi facciamo un attacco aereo. E... A nulla. Attacco aereo. IMA. Ci avviciniamo al bersaglio. Sì, lo riduttiamo in materie. Corso. Sì, anche veniamo da trasportare. Sì. Speriamo ne valga la pena, comando. Confermato. Notieriamo giù. Qui unità falcione Tutte le squadre in piena forma Unità falcione Sì comando, confermato Guida Nubio Tutti i mezzi in buono stato Attacco aereo Nemico Due Vinciclone Ci avviciniamo al bersaglio Attenzione a lima Struttura bersaglio distrutta Ottimo lavoro signore Dettagli Ok Perfetto Dettagli